...della sua compagna, la cantante Elsa Soares e partecipa a una puntata di speciale per voi con Renzo Arbore. Elsa Soares è un nome famosissimo in tutto il mondo e soprattutto in Brasile dove è nata e dove è una delle cantanti più popolari. È venuta con Gerimcha. È un nome famosissimo agli appassionati di calcio. Gerimcha, famosissima ala, che ha lasciato il calcio da un po' di tempo. No, non l'hai lasciato. Non l'hai lasciato. Non ha lasciato il calcio, ma ormai è l'ombra di se stesso.